come disattivare windows defender firewall più la sicurezza di windows sia su windows 10 che su windows 11 c'è lo stesso procedimento in basso a destra c'è la sicurezza di windows come puoi vedere questa qua ci clicchiamo sopra protezione da virus e minacce andiamo direttamente su gestisci impostazioni e come puoi vedere da qui puoi mettere disattivato la protezione in tempo reale una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente su windows defender firewall impostazioni avanzate azione proprietà stato firewall attivo disattivo connessione entrata per questo profilo privato stessa cosa che va disattivato profilo pubblico disattivato e basta e fai ok chiudiamo un attimo qua andiamo su attiva disattiva windows defender firewall disattiva windows defender firewall dicono scelta non consigliate perché tenere l'antivirus attivo è importante protegge il nostro sistema ma se ti blocca delle applicazioni che sono sicure quindi non l'ha fatto apposta disattiva il windows defender firewall e scarica quel programma e fai ok per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video grazie a tutti per questa visione su come disattivare windows defender firewall sia su windows 10 che windows 11 iscriviti lascia like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao